Un segno di libertà. Il mare è libertà. Parte dal porto di Bari una nuova veleggiata per i pazienti dell'assistenza domiciliare integrata, affetti da SLA e da altre patologie. Un'iniziativa promossa dalla ASL di Bari insieme alla cooperativa Oxilium e dall'associazione Conslancio che hanno permesso a sei pazienti gravi, il più giovane di 24 anni, la più anziana di 72, di godere del mare e della bellezza di navigarlo con la delicatezza di una vela insieme a tutti i familiari. Sicuramente trasforma la loro rassegnazione in sorriso e speranza, trasforma l'impossibilità di una guarigione di una patologia in possibilità di cura, che non è per forza la guarigione. Il mio augurio e la mia speranza è che questi eventi che sono giornate straordinarie, ne abbiamo fatte quattro in quest'estate, diventano sempre più ordinarie per questi pazienti. Tre pazienti per ogni barca a vela, infatti sono due le imbarcazioni messe a disposizione per questa iniziativa. Un giro in mare per i pazienti, che grazie al progetto promosso anche dalla ASL di Bari, permetterà di trascorrere una mattinata diversa e soprattutto a contatto con il mare. Il mare è sinonimo di libertà assoluta, quella libertà che viene negata ai pazienti allettati e quindi per loro è tutta un'altra vita, perché comunque andando in barca sono baciati dal sole. Sono contentissimi, sono proprio felici, ci ringraziano e continuano a ringraziarci, ma in realtà siamo noi che dobbiamo ringraziare loro per quello che ci danno ogni giorno e soprattutto poi quando in seguito a queste uscite o in barca o insomma a mare i ringraziamenti e quello che loro ci donano è molto di più di quello che noi diamo a loro.